Se avete bisogno di un account moddato per GTA Online, per PS4, PS3, Xbox One, 360 e PC, console, di rango e molto altro, vi invito a passare sulla pagina Facebook di Moddinglandia. Tutti i link nella descrizione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Krixx e oggi ragazzi sono qui su GTA Online come sarò lo speed test fra la Grotti X80 Proto che sarebbe la nuova auto rilasciata martedì contro la Pegasio Siris che è stata rilasciata con il DLC Il Gottengames parte 1. Prima di iniziare ragazzi vi invito come al saluto a lasciare un mi piace a questo video per supportarmi, fatemi sapere nei commenti se volete vedere altri speed test fra la X80 Proto e comunque sia le altre auto che ci sono in questo gioco, quindi le auto super in particolare. E inoltre prima di iniziare vi voglio dirvi che per fare questi test saranno utilizzate le auto personalizzate e inoltre questi test saranno svolti in una gara e non quindi in freemode. E la gara che andrò ad usare sarà quella che usa anche Zeta King per i suoi speed test, vi lascerò comunque sia il link nella descrizione. E bene detto questo direi che possiamo anche cominciare subito ed eccoci qua ragazzi ecco siamo al primo test io userò la X80 Proto mentre sempre il mio amico XGandro fierissimo che saluto e ringrazio per avermi aiutato vi lascerò il link del suo canale nella descrizione userà la Pegasio Siris. Comunque 3, 2, 1 partiamo subito possiamo subito vedere come la Proto brucia in accelerazione di gran lunga appunto la Pegasio Siris sembrano essere a pari livelli entrambi. Vi ricordo che comunque sia ho le ruote standard sulla Proto quindi non so se comunque sia fa qualcosa o meno. Comunque attenzione ragazzi la Proto sembra mantenere abbastanza in prima posizione ma l'Osiris riesce comunque sia a stare di dietro. E credo che comunque sia l'Osiris in ripresa abbastanza buona e vanno a tagliare il traguardo insieme e la Proto fa un tempo di 22 secondi e 659 centesimi mentre la Pegasio Siris fa un tempo di 22 secondi e 687 centesimi. Adesso passando al secondo test possiamo subito vedere come la Proto sia già in vantaggio di un punteggio chiaramente sempre stesso tracciato e stesso percorso quindi sempre stesso tratto. Quindi niente 3, 2, 1 partiamo subito la cosa che non mi spiego è come una Pegasio Siris riesce a tenere testa ad una Proto in quanto la Proto uscita adesso ha diciamo un motore e diciamo appunto delle prestazioni veramente molto molto maggiori rispetto alla Pegasio Siris. Quindi se questa è una cosa che non riesco a spiegarmi infatti come starei vedendo praticamente la Proto riesce comunque sia in ripresa ad essere buona però comunque sia l'Osiris in questo secondo test va ad aggiudicarsi la prima posizione e quindi questa ragazzi è una cosa che non mi spiego in quanto nel primo test o forse avrò sbagliato io la partenza o magari non lo so però comunque sia diciamo che l'Osiris ha vinto ma credo che sia stato pure un mio errore. Adesso andando a fare il test o meglio l'ultima prova quindi io con l'Osiris e X-Giantro con la 80 Proto possiamo subito intanto partiamo possiamo subito notare come l'Osiris riesce a tenere una buona accelerazione ma purtroppo la X-80 Proto dopo la curva riesce comunque sia a distaccarsi per un bel po' dando letteralmente una pista alla Pegasio Siris. Quindi secondo me penso che comunque sia non c'è competizione fra la Pegasio Siris e la X-80 Proto comunque sia possiamo subito vedere come la Proto va a concludere in prima posizione quindi diciamo che questo primo test se l'è aggiudicata la X-80 Proto per due punti. Quindi adesso andando a fare il test da soli possiamo subito notare farò ovviamente due test ragazzi due test da soli due con la Proto e due con l'Osiris possiamo subito siamo qui adesso 3 2 1 partiamo subito e possiamo subito notare come la Proto riesce comunque sia ad avere una buona accelerazione e di conseguenza appunto superare i 100 km orari quindi diciamo stabilire subito diciamo all'istante una buona velocità. E appunto possiamo vedere come l'auto riesce ad essere abbastanza veloce nonostante le sue prestazioni diciamo la sua carrozzeria che rende l'auto molto molto più lenta. Abbiamo già il primo risultato 22 secondi e 457 centesimi devo dire non male veramente niente male per un'auto del genere. Quindi adesso andando a fare il secondo test siamo pronti nuovamente qui ovviamente con la gara che usa anche il Z-Kink per i suoi test fierissimi possiamo dire. Comunque niente dai siamo qua 3 2 1 direi che possiamo subito partire perfetto possiamo subito notare come nel precedente test come la Proto riesce a raggiungere appunto subito la sua velocità massima e appunto anche avendo una pessima accelerazione o comunque sia buona dipende insomma se fate la partenza turbo o meno. E comunque siamo già qui a metà percorso possiamo subito vedere che la Proto va a concludere quindi battagliare il traquadro con un tempo di 22 secondi e 557 centesimi quindi 100 centesimi rispetto in più la o meglio il precedente test. E diciamo che è una cosa che non mi spiego in quanto appunto se la Proto è diciamo è la stessa auto però quindi credo che il tempo dovrebbe essere uguale. Questa è una cosa che veramente non mi spiego. Comunque siamo qui adesso con il test della Pegasi Osiris sempre da soli possiamo subito vedere in talo 3 2 1 partiamo subito possiamo subito vedere come l'Osiris riesce ad avere una buona accelerazione e di conseguenza raggiungere subito la sua velocità massima. Però comunque sia devo dire che anche in ripresa l'Osiris è abbastanza buona e come tutti sappiamo tutti quanti abbiamo usato l'Osiris per appunto cazzeggiare o comunque sia fare qualche gara e insomma niente. Comunque abbiamo già il primo risultato per quanto riguarda la Pegasi Osiris circa 24 secondi esattamente 23 secondi e 892 centesimi. Quindi possiamo ben capire che la Proto ha un secondo di vantaggio sulla Pegasi Osiris e ovviamente ragazzi è una cosa che si sapeva in quanto l'Osiris uscita un po' più prima con appunto dei DLC non può essere a livello della Grotti X80 Proto in quanto appunto la Proto è veramente molto molto più veloce. Comunque siamo qua al secondo test sempre con la Pegasi Osiris da sola intanto vi ricordo che siamo per il momento un punteggio di 3 a 1 per l'Osiris quindi possiamo ben capire che anche il vincitore di questo test secondo me può essere la Grotti X80 Proto. Comunque siamo partiti siamo già a metà percorso o meglio metà tratto possiamo subito vedere come lo Siris in velocità massima riesce appunto ad essere molto stabile e niente quindi comunque la Siris va a tagliare il taguardo facendo un secondo o meglio facendo un tempo di 23 secondi e 592 centesimi. Quindi possiamo ben capire che il vincitore di questo test è sicuramente la Pegasi o meglio la Grotti X80 Proto in quanto appunto essendo un'auto super quindi molto molto più veloce possiamo appunto ben capire che anche il vincitore di questo test è la Grotti X80 Proto. Una cosa che non mi spiego è che nel terzo test quindi quando io ho preso lo Siris X80 mi ha dato un distacco veramente grandissimo e questa è una cosa che non mi so spiegare in quanto appunto quando nei primi test quindi nel primo o secondo test della gara in compagnia io avevo la Proto e comunque sia Giandro è riuscito nella prima gara a starmi dietro quindi praticamente attaccato e nella seconda gara appunto è andato addirittura a vincere quindi questa ragazzi è una cosa che non mi spiego quindi può darsi che o io avrò problemi di connessione oppure non lo so. Un'altra cosa è che queste gare sono state svolte o meglio sono svolte sempre con l'opzione senza collisioni il che permettono di non avere né scie né aiuto giocatori in coda appunto nella gara. Quindi ragazzi diciamo che il risultato finale quindi il diciamo il giudizio finale va sicuramente alla Grotti X80 Proto in quanto possiamo ben capire anche da questi test che il vincitore di questo test è la Grotti X80 Proto. Ovviamente poi ragazzi sta a voi decidere nei commenti quale delle due secondo voi è la più veloce e diremi appunto cosa ne pensate di questi test. Quindi niente ragazzi anche questo video è giunto al termine vi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è stato utile. Fatemi sapere appunto nei commenti se volete vedere dei prossimi speed test quindi X80 Proto versus T20 o non lo so ragazzi insomma fate voi. Quindi niente ragazzi quale a Grotti X è tutto e mi invito a lasciare un mi piace se questo video vi è stato utile. Vi ricordo che in descrizione trovate il link del mio canale Telegram quindi ragazzi mi raccomando andate tutti nel mio canale di Telegram. Ovviamente il link è nella descrizione vi ricordo anche che se avrete un account modato totalmente gratuito potete partecipare al contest che con cui si è trovato nel canale. L'estazione si farà ai 1500 iscritti quindi mi raccomando ragazzi fate iscrivere genitori, nonni, parenti, zii, cugini tutti quanti al mio canale. Quindi niente ragazzi vi ricordo anche se trovate Facebook, Instagram e Twitter quindi seguirmi su tutti i social come trovate la descrizione di questo video. E vi iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Da questo qua è che questo è tutto io vi saluto vi ringrazio e noi ci vediamo al prossimo video. Bella regà! Grazie a tutti!